In Italia, fino alla metà di novembre, sarà presente l'estate di San Martino, il nome a origine dalla tradizione del mantello di San Martino, secondo la quale Martino, quando vide un mendicante infreddolito e seminudo, tagliò a metà il suo mantello perché si coprisse. Poco dopo incontrò un altro mendicante e a lui donò l'altra metà del mantello. Subito dopo il cielo si schiarì e la temperatura si fece più umite. Da qui estate di San Martino, temperature decisamente in risalita rispetto al periodo. L'estate di San Martino quest'anno è arrivata grazie ad un mega anticiclone dal Marocco e porterà temperature fino a 7 gradi sopra le medie e niente piogge. Dal 15 il tempo comincerà a peggiorare e a tornare con suoi valori annuali. Dovremmo avere una fase di tempo stabile che durerà almeno per tutta la prima decada di novembre a causa della persistenza di una robusta area di alta pressione. Da venerdì 6 avremo un poderoso aumento della pressione a causa di un robusto anticiclone simile estivo centrato sul Mediterraneo e sull'Europa occidentale con temperature superiori di 6-7 gradi. Grazie. Grazie. Grazie.